Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. L'estate 2023 sembra aver acceso nuovi dardi nel rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Recentemente, su Instagram, sono emersi segnali che lasciano intendere possibili difficoltà nel loro rapporto. A rivelarlo è una storia di Francesca Tocca, ballerina conosciuta per la sua partecipazione ad Amici. I due hanno avuto in passato notevoli battute d'arresto, e ora questi nuovi indizi potrebbero significare un'altra tempesta imminente nel loro matrimonio. Nonostante poche settimane fa, Todaro avesse fatto una dedica amorevole alla moglie per il suo compleanno, sembra che l'atmosfera sia cambiata. La Tocca ha condiviso una pagina del libro, il quadro mai dipinto, di Massimo Bisotti, con alcune frasi evidenziate, che sembrano trasmettere un messaggio di disillusione amorosa. Questo ha portato molti, a pensare ad un possibile messaggio velato nei confronti del marito. Un altro tassello al puzzle è stato aggiunto da Dejanira Marzano, famosa per il gossip. Ha condiviso una testimonianza di un utente, che ha raccontato di aver visto una lite tra la coppia, durante una cena a Villa Simeus. La storia narra che, dopo una discussione, Francesca Tocca ha lasciato il ristorante, camminando da sola nella notte. Il passato della coppia ha visto alti e bassi. La loro relazione risale al 2006, anno in cui hanno vinto il campionato italiano di danze latino-americano. Dopo la nascita della loro figlia Yasmin, nel 2013, e il matrimonio nel 2014, hanno affrontato una crisi nel 2020. Durante quel periodo, Francesca Tocca si era avvicinata a Valentin Dumitru, mentre voci circolavano su un'eventuale nuova fiamma per Todaro. Sebbene la coppia abbia negato le voci di tradimento, sembra che la loro relazione non sia mai stata la stessa dopo quel periodo di crisi. Rimane da vedere come si svilupperà questa nuova serie di eventi, e se la coppia deciderà di commentare pubblicamente la situazione. Che ne pensate? Riusciranno Raimondo e Francesca a superare questa nuova crisi? A voi i commenti! Grazie